Sindaco Marco D'Andrea Civitella, Casanova, parte oggi con questi screening di massa. Oggi ci sono stati i ragazzi e gli insegnanti, il personale della scuola dell'istituto comprensivo. 60 i test in tutto, 0 positivi. Sì, oggi abbiamo riservato questa mattinata appunto per le scuole, anche per agevolare la presenza dei ragazzi e del personale. E finora siamo soddisfatti del risultato. Ecco, si continuerà domani e poi domenica. Avete voluto fortemente che si facesse nel vostro paese, senza ricorrere all'aiuto degli altri paesi, perché volete che i vostri abitanti escano il meno possibile dal territorio. Sì, allora abbiamo accolto con grande positività questa opportunità che ci ha dato la regione, la Asle. è un'opportunità praticamente importante sia per quanto riguarda la prevenzione, ma soprattutto anche perché lo facciamo in casa e quindi per paesi come i nostri, un po' diciamo marginali, è importantissimo avere la possibilità di farlo qui, con popolazione anche molto anziana che difficilmente riesce a spostarsi. Ecco, sindaco, screening importante, ripetiamo ancora una volta, anche alla luce di quelli che sono stati i numeri impietosi della prima ondata di Covid-19 sul territorio di Civite della Casanova. Certamente, siamo stati in un territorio molto colpito, abbiamo anche avuto dei decessi e quindi abbiamo creduto nella prevenzione da sempre, quindi in modo particolare abbiamo voluto sfruttare questa occasione che ci hanno dato. Sfruttare questa occasione che ci hanno trovato,